La partnership tra l'Associazione Forme e la LDM Gallery nasce quando l'allora direttore della galleria Federico Gori ci contattò per progettare insieme una mostra che promuovesse i giovani artisti e che al contempo mettesse in collegamento la realtà dell'Accademia con la realtà artistica della città di Firenze. Heart Project è il titolo della mostra e anche dei lavori alle mie spalle che sono degli appunti, delle annotazioni, annotazioni emozionali, delle narrazioni temporali in cui è protagonista il cuore rappresentato in maniera astratta ed è realizzato sotto forma di codici, di elementi che aiutano alla lettura del messaggio e della notazione intima e personale che Heart Project una buona notizia da un studio, di lettere della generazione. Adrien Sripzio, è davanti alfry di Wilma Galleria. Adrien Sripzio, sono sono interna a la Galleria di Galiere e il lavoro principale del mio lavoro è collaborazione alla con gli artisti, i curatori e il team della Galleria. L'unico di noi è investito in imparare una comunicazione culturale e significativa alla e credo che abbiamo avuto questo con l'Heart Project e sono molto felice guardate a future exhibitions, including una studenta l'exhibizione, a l'anima di December.